buongiorno e ben ritrovati con l'informazione locale di radio adige verona network ancora attenzione sul tema del coronavirus è morta ieri all'ospedale di treviso la donna di 76 anni risultata positiva al coronavirus è ricoverata in rianimazione nell'ospedale cittadino lo ha reso noto la regione veneto l'anziana è deceduta nel reparto di terapia intensiva del caffoncello affetta da importanti patologie pregresse era stata portata nella giornata precedente in ospedale sono quindi 11 le persone decedute risultate positive al coronavirus in italia le ultime vittime oltre alla 76 anni di treviso sono un 84 anni di nembro in provincia di bergamo un uomo di 91 anni di san fiorano e una donna di 83 di codogno entrambi in provincia di lodi di messa invece una paziente a padova per lei è stato attivato l'isolamento domiciliare e ieri il presidente della regione veneto luca zai ha incontrato i rappresentanti del mondo produttivo e delle istituzioni del veneto al centro operativo della protezione civile di marghera ha confermato il massimo impegno della regione e ha chiesto aiuto a tutti per gestire in maniera unitaria e coordinata l'attuale fase di emergenza invitando tutti a seguire lo spirito di squadra e applicare buonsenso queste le parole di zaia e secondo confesercenti l'emergenza da coronavirus rischia di avere un impatto elevato sulla nostra economia pari a una perdita di 3,9 miliardi di euro di consumi i rischi più gravi sono per il settore turistico travolto dalle disdette delle prossime prenotazioni il presidente e il direttore di confesercenti verona paolo bissoli e alessandro torluccio chiedono interventi rapidi e collaborazione sia al governo centrale sia all'amministrazione locale e a risentire dell'emergenza anche le manifestazioni tradizionali veronesi per la prima volta in 52 anni infatti la festa della renga di parona non si farà l'evento che era previsto per oggi potrebbe essere recuperato l'8 o il 15 marzo ricordiamo infine che è attivo il numero verde della regione veneto 846 23 40 per informare i cittadini i tecnici della regione precisano che le persone che temono di essere entrato in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni necessarie ripetiamo il numero verde della regione veneto 800 46 23 40 con questo è tutto arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di radio adige verona network qui 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 Grazie a tutti.